Il Campobasso perde meritatamente contro il Giulianova di Stallone e sprofonda l'ultimo posto in classifica in coabitazione con l'Olimpia agnonese. L'approccio alla partita era stato positivo ma la squadra, come accade spesso, si scioglie dopo un'ora di gara. Dopo 13 giornate e uno scorro da retrocessione si può affermare che i principali e più gravi difetti siano stati nella costruzione estiva dell'organico. Per i Giuliesi decide Di Paolo a metà primo tempo con un gol davvero da rivedere. Arbitra Baronti di Pistoia. Dopo due minuti il destro di Giacobbe è preda di Sciba. La partita è subito molto vivace. Al sesto veloce contropiede e ospite con Di Paolo che riesce ad allargare per Fazzini, la cui conclusione sporca è tutta disposito. Il Campobasso è in partita. Solo 30 secondi più tardi un gran destro preciso di Antonelli chiama Sciba ad una gran parata, poi tutto fermo per fuorigioco di Giacobbe. La partita è interessante. Al diciannovesimo punizione da distanza importante di Frulla con palla destinata alla curva sud. 60 secondi per un'azione di marca rosso-blu che libera Antonelli in posizione esterna. Conclusione neutralizzata dal portiere abruzzese. Come un fulmine a ciel sereno arriva il vantaggio giallorosso. Siamo al venticinquesimo quando Ferrini riesce ad andare via Spinelli che rincorre gli avversari per tutta la fascia sinistra. Passaggio verso Di Paolo che entra in area di rigore e fa passare la palla fra lo stesso Spinelli e Marchetti. Sposito è completamente sorpreso sul suo palo e non prova nemmeno a distendersi. Giulianova 1 Campobasso 0. Abruzzesi che festeggiano con i tifosi giunti in Molise mentre la panchina rosso-blu dice qualcosa al signor Baronti. Il vantaggio ospite è avvenuto mentre Allocca era fuori per un temporaneo infortunio a Labbro. Il Campobasso non vuole assolutamente starci ma è il Giulianova che continua a spaventare la porta di casa. Al trentunesimo si tuffa Tozzi Borsoi che non trova il 2-0 per pochi metri di testa. Singolare quanto accade poi al trentaquattresimo da fermo si prepara a calciare Giacobbe. L'essito è prima un palo poi una palla ballerina poi un altro palo e calcio d'angolo. Rosso-blu molto sfortunati che a questo punto della gara non meriterebbero di soccombere. Ancora Giacobbe a provarci al trentottesimo. La palla si abbassa ma non ha sufficienza da prendere la porta. La punta di casa ci prova con il sinistro al trentanovesimo. Stavolta Sciba fa sua la sfera dopo un minuto di recupero tutti negli spogliatoi. Bagatti e Stallone mandano in campo gli stessi undici nella ripresa. Giuliesi supera bottonati. Campopasso che fa fatica a trovare spazi. Si apre uno spiraio per il rosso-blu al nono ma il diagonale di Cogliati è facile da bloccare per Sciba. Come un copione già visto il Campopasso accusa un calo nella ripresa. Giulianova vicino al gol al diciassettesimo con un tiro violento di Mangiacasale deviato in corner da Sposito. Bagatti prova a cambiare qualcosa al ventesimo con l'inserimento di Minchillo al posto di Merio. Al ventiduesimo tiro abbastanza velleitario di Giacobbe da fuori aria. Il Giulianova non soffre nulla. Al ventiquattresimo Stallone inserisce Balducci al posto di Frulla. Anzi sono proprio gli ospiti a sfiorare il gol. Al ventiseiesimo da Tozzi Borsoia Mangiacasale che non trova i pali della porta di casa. Campopasso molto sterile. Al ventottesimo il destro di Antonelli si spegne lentamente sul fondo qualche secondo prima che Magri lasci il campo a Tommasini. Al trentunesimo punizione di Danucci impatta in maniera davvero lieve il pallone Giacobbe. La presa del portiere è davvero elementare. Entra anche secca al posto di Antonelli nel Campopasso. Comandati cinque minuti di recupero senza che accada alcunché di rilevante. I giocatori rosso-blu mancano di grinta, rabbia e cattiveria agonistica. Per il Giulianova è una vittoria di platino. Per il rosso-blu è notte fonda. Mister Stallone, crediamo che per il Giulianova valga davvero molto questa vittoria a Selvapiana. Sì, vale molto perché veniva da un periodo che noi abbiamo vissuto con qualche difficoltà. Abbiamo fatto un inizio di campionato molto positivo. Abbiamo una compattezza e un equilibrio di squadra invidiato da tutti. Eravamo forse la squadra che è più difficile da affrontare, almeno detta dagli avversari che ci affrontavano. Poi quando forse, forse ne sapete qualcosa anche voi, quando forse a volte si gioca meglio e si deve fare risultato, meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo fatto. E poi quando purtroppo qualche risultato viene meno, si perdono le sicurezze, si perdono le certezze e quindi voglio dire si fa un po' in difficoltà. Siamo stati un pochettino messi sotto discussione, i ragazzi sono molto giovani, sono molto sensibili e ne hanno risentito. Oggi però credo che hanno dimostrato un momento di massima difficoltà, perché ci mancavano almeno cinque titolari, di reagire con compattezza, con forza, con organizzazione e con grande volontà. Questa è una dimostrazione che se ripartiamo da questa situazione, come dici tu, è una vittoria che vale doppio, importante. Di Paolo davvero una spina nel fianco del campo basso, gol a parte. Sì, è un giocatore che fino a due anni fa stava in promozione, sta facendo dei passi da gigante, è un giocatore importante e secondo me può crescere ancora, perché tatticamente ha ancora dei margini di miglioramento, però ha delle grandi potenzialità. Quindi complimenti a lui, ma permettetemi, oggi lui complimenti, ma complimenti a tutti i ragazzi che sono stati, ripeto, in una situazione di grande emergenza, hanno dimostrato soprattutto di essere fuori al gruppo. Federico Delgrosso, difensore del Giulianova, la decidete nel primo tempo con un gol di Paolo. Nella ripressa avete sofferto il giusto, anche se obiettivamente il campo basso ha creato molto poco. Sì, sinceramente il campo basso è partito molto forte, primi 15-20 minuti, poi noi abbiamo trovato il gol con Di Paolo e per noi è stato un po' più facile. Secondo tempo ci siamo messi diversamente, ho fatto una difesa a quattro invece di continuare a tre, forse lì è stata la carta vincente perché ci siamo coperti un po' di più e poi abbiamo rischiato anche di chiudere la partita. Con questa vittoria salite a 17 punti in classifica, rimane molto corta la parte diciamo che ingloba retrocessione e play-out. Sì, ma l'avevo già detto più volte, è un campionato molto difficile, è un campionato molto livellato, bastava guardare il Cesena che ha perso a Pineto. Insomma, è un campionato difficile, noi pensiamo a salvarci e cercare di fare più punti per guadagnare qualcosina in più. Come hai visto il campo basso, complessivamente? Sicuramente una partita a due facce da parte della squadra rosso-blu. Sinceramente a me ha fatto una buona impressione, soprattutto centrocampo e nella parte avanzata è una buona squadra, sotto il profilo del palleggio ci ha creato un po' di difficoltà. Non merita secondo me quel posto in classifica, quindi comunque faccio un in bocca al lupo al campo basso, sperando che possa tirarsi fuori da questa situazione.